Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! E tira! E molla! E messeda! Eccoci qua! E ancora purtroppo con Paola Varalli, terza volta che viene qua! Ma non è così che si accoglie un ospite pluripremiato! Buonasera, cara! Buonasera! Cioè ormai noi con questa ragazza siamo diventati familiari, intimi, congiunti come si diceva all'epoca del Covid! Bentornata! Sempre felici di vederti! Stavolta poi! Stavolta! Con che novità! Facciamole vedere! Anch'io! Ma questo! Ma questo! Varalli! Noi ti abbiamo conosciuto con le squinzie, ti abbiamo rincontrato con i racconti! L'abbiamo vista a maggio in giallo a giugno! L'abbiamo rivista! Cioè tutte queste cose di te le sappiamo! Ma qua c'è un pluripremiato! Qua c'è un ostellato dei romanzi! Raccontaci un po'! Dunque per i premi, vuoi sapere dei premi? Ecco io ve lo dico! Partiamo dal fondo! Io ve lo dico! Andiamo dai premi! Che è sempre una cosa più che esilarante e entusiasmante! Allora, l'ultimo premio che ha vinto è stato Garfagnana in giallo! Avete capito? Cioè ha vinto per l'esattezza il settore romanzo storico, perché questo si svolge negli anni Ottanta! E dicevano a Garfagnana che quest'anno non sono arrivati loro dei romanzi, fai conto, nel Medioevo, come è il classico romanzo storico, Struckel piuttosto che, non lo so, Simoni, ecco, che sono medievali, eccetera! No, quest'anno sono arrivati tutti i romanzi, non so, anni Settanta, La Guerra, eccetera, eccetera! E quindi hanno messo anche il mio nel romanzo storico, perché in effetti negli anni Ottanta c'erano veramente... È un po' storico nel senso che ci sono tante cose che non c'erano! Fai conto, non c'erano i telefonini, non c'era il DNA, cioè veramente in questo senso è ben diverso dal romanzo del giorno d'oggi! E lì ho vinto, ero felice come una pasquetta! Poi sono in finale alla Quercia del Mir e lì non sappiamo niente finché non vado giù, quindi vabbè! Parentesi, l'anno scorso al Garfagnana in giallo ci siamo andate insieme con la sua macchina, che mi ha fatto girare mezzo a Milano per raggiungerla e poi praticamente è arrivata a casa mia! E poi siamo arrivati lì, ci siamo dovuti cambiare dietro la portiera perché non trovavamo l'albergo, abbiamo fatto una super super avventura divertentissima, anche con la nostra Rambaldi che avete visto qua! Guarda, troppo divertente! Ma io mi ricordo, come se fosse ieri, la Varalli che va in finale anche l'anno prima e dice, torna, segnalata in finale, torna e dice, uffa, a me questo premio mi porta male! Sempre in finale, mai lo vinco! E quest'anno l'ha vinto! Sì, però vabbè, avevo sempre le menzioni, comunque la menzione ti fa sempre gioia, non è che solo che vincere di più è diamine! La menzione, una volta, due volte... Dici, vabbè, meglio la menzione di un concetto è la minzione! Meglio, come dicono, meglio una menzione di una minzione! È, è, infatti! Però, con questo abbiamo cambiato scenari, personaggi, editori, tutto nuovo... È un po' storico, però, lo spritz c'è! Non lo chiamare spritz! Quella si chiama bicicletta, adesso tu sei giovane, ma sei giovane, ma una volta, negli anni Ottanta, forse ancora adesso, se entri in un bar un po' antico, forse sanno cosa sia... La bicicletta è il bianchino spruzzato, che è l'antesignano dello spritz! Ma comunque è milanese, lo spritz è veneto! Eh, no, infatti... Sì, è milanese, infatti, la bicicletta è proprio milanese! Perché gli ingredienti sono identici! Quante cose ce ne sono da dire! Queste sono due biciclette! Con due patatine scrause e quando va bene, due salatine e formaggio! Tre olive! Tre olive! Tre olive di numero! Tre olive! Due avventori, due olive! Questo era il William! Il bar William, detto... Si chiamava William, William, ma ha detto William a Milano, perché era il William! Ma esiste? È esistito! Ah, caspita, è esistito! Eh, sei super morto! Non ci puoi più andare! Eh, no, è un po' morto! È morto il William! Eh, sì, perché secondo me già negli anni Ottanta ce ne aveva una sessantina, occhie croce... Ma tu come fai a sapere di questo bar? Io stavo in Via Lomazzo, avevo lo studio lì e quindi... Ovviamente è un'opera di fantasia, per cui ci sono veramente tante cose inventate, però alcune cose sono vere, tra cui il bar William! Che tu hai fatto in tempo a entrarci? Che io ho fatto in tempo a entrarci, esatto! Ed era veramente così? Era veramente così! C'era questa cosa delle patatine posse e non era marketing oriente! Non era marketing... Se vogliamo adesso, c'è un aperitivo del genere è un po' una prassi a Milano! due patatine e tre olive? Eh, beh, insomma... Ah, e siamo ritornati lì! Perché siamo un po' tornati... Sì, in alcuni bar è così, certo! Pagando con moneta assonante! Eh, quando generazioni e generazioni di praticanti squattrinati si sono nutriti ad happy hour! No, prima cos'è che è stato detto come parola Strucker? No, Strucker! Struckul! No, ma è vero, è un cognome vero! Sì, sì, Matteo Struckul! Mestruckul! Eh sì! Eh, lo abbiamo invitato! Se riesci a trovare la freccia da Venezia... È un famoso, sì, romanzo storico lui! Ah, cari! Varalli, non faccia come al solito l'ecumenica che parla degli altri! No, e allora, tornando a noi... Tira, molla e messeda... Cioè, tiro, mollo e mi siedo, immagino! Ah, mescolo! Ah, mescolo! Ok, perfetto! Tiro, mollo, tiro, mollo e messeda! Che vuol dire gira che ti rigira in italiano! Ah, ok! Cioè, niente! È un modo per prendere tempo! Ok, come in questo caso, in questa puntata, noi stiamo prendendo... Tira, molla e messeda... La tiri un po' in lungo... Tu stai facendo figuracce, guarda! Beh, questo è il mio solito! Tira, molla e mi siedo! Non sarebbe il nostro mazzognaio! Alla prossima presentazione lo dice, eh! Che non è tira, mollo e mi siedo! No, però è carino, dai! Però è un titolo, effettivamente, insolito per un giallo! Molto solo! Uno direbbe, è un giallo comico o è un giallo... Lo è, lo è, lo è, lo è! È un po' sì! È un po' sì! È molto ironico, è un po' così! Non ci sono morti ammazzati con descrizioni di budella di fuori, piuttosto che terribili, non so, gente che li strappa i denti dal vivo! Ecco, non c'è! Se cercate questo, lì non lo trovate! Ce ne parli, ce ne parla? Ce ne parli, ce ne parla! Allora, Tira, molla e Messita è una storia milanese, è una storia milanese che si svolge nel Borg di Ortolan. Una volta il Borg di Ortolan era Paolo Sarpi, Pier della Francesca, perché nell'Ottocento, ai tempi, forse anche i primi del Novecento, c'erano tutti i orti lì, non c'erano le case, i bar e le falanghine. E i cinesi! No, c'erano solo gli orti, quindi prima si chiamava Borg di Shigulat, quindi di quelli che vendono le cipolle, poi questi si sono allargati e hanno cominciato a coltivare anche qualcos'altro, ed è diventato il Borg di Ortolan, e vendevano... Ortolan? Ortolan, Borg di Ortolan. Non sei mica venito Ortolan, eccetera! Eh, vabbè, ma però... Il Borg di Ortolan, ecco così. C'è un bar in Vialomazzo, in questo romanzo, che si chiama il Bar William. Il Bar William è costituito dal William e da suo padre Socrate, sono solo in due, fine del personale del bar. C'è un po' un mix di... Un po' un mix. Però lì ci sono fissi, molto spesso, diciamo, Pino e Marietto. Chi sono Pino e Marietto? Due avventori del bar, sì. Ma sono anche, di professione, un idraulico e un gommista. Per l'esattezza, Marietto è virile e gommista. Ok. Perché questa è così. A volte è anche altre cose. Virile e gommista, è screanzato, virile e gommista, è citrullo. È un mascalzone anche. No, no, alla fine no, è una brava persona. Però rispetto al Pino, è un po' un uomo più di polso. Anche perché il Pino è... Il Pino è naif. È un gino. È un gino, esatto. Hai sbagliato la consonante. Il Pino è un po' gino. Il Pino è un gino, gli devi proprio spiegare tu. Quindi abbiamo William, Socrate, Pino, Gino, Marietto, che poi... E poi c'è l'Edmonda de Amicis. Edmonda. Altro personaggio. Questa è un'energumena, una ragazzona, che di mestiere fa la butta fuori nei locali. Bello. E tira di box. Ma... Però è una brava persona, non è? Ma... Ma... È una uoma questa qua. È un po'... Eh beh, lei è così. È una tosta. E ha avuto magari anche dei precedenti con... C'è il trotter. C'è il trotter. Te lo ricordi il trotter? No, no, no. No, della Guzzi, è un motorino. Vabbè, ma allora, nel 1980 c'era il trotter. Ah, il trotter, quello con i pedali. Ah, ok, sì. Mi assomiglia al ciao. Ok, ok, ce l'ho. Il ciao era della Piaggio, il trotter era della Guzzi. Ok, perfetto. Lei gira sul trotter, sta qua. E insomma, Pino e Marietto, che cosa fanno? Oltre ad andare a bere gli sprizzi... Oltre ad essere degli assidui consumatori di... Sono di consumatori di biciclette e bianchini spruzzati e caffè. E anche un po' di niente. E anche il niente. Ah, giusto, il niente bisogna citarlo. Il niente? Il niente va citato subito. Il Socrate, che sarebbe il papà del William, che cosa aveva fatto? Aveva inventato un liquore. Fai da te una roba di erbe, un po' schifo, una schifezza praticamente. Fai da te. Con un'etichetta floreale, bellissima, e se l'era piazzato dietro al bar. Quando entravano tre avventori, fai conto, non sempre tutti vogliono l'aperitivo. Diceva, ma lei cosa desidera? Io una bicicletta. E lei? Ma io un martini. E lei? Ma io niente. Frazz! Gli dava questa schifezza qui, perché si chiamava niente. E questo alla fine gli toccava pure pagarlo. Cioè, tipo, ah, questo qua è il liquore della casa che facciamo noi, una roba imbevibile. Esattamente! Che poi paghi anche. Però, un po' all'aumero, no? Chi è che ti ha tradito? Nessuno! Eh, è qua uguale, cosa bevi niente. E quello è il liquore. Ma te l'ha inventata tu questa del niente? Il niente c'era. In che senso? Nel senso che il padre del William aveva davvero inventato un liquore del genere. Il niente. Si era inventato davvero il niente. È bellissimo. Sì, perché tra tutte le invenzioni questa invece è una verità. Qualcosa di vero, cioè, come ti dico, il William. Ma quindi tu l'hai assaggiato il niente? No. Non sarebbe qua a raccontarcelo. No, sarei morta, secondo me. No, scherzo. Però l'unico che apprezza il niente è il pino. E perché ci stura qualche tubo. Esatto. È quel liquido che va bene per ogni occasione. Sia perché ti rafforza, ti rivigolisce, poi sturi. Sturi lavandini. Esatto. Questo qua è bellissimo. Ti butti giù tutto. Niente fantastico. Insomma, loro due investigano. Non è che proprio fanno solo i cretini. Tra un niente e l'altro investigano. Tra un niente e l'altro investigano. Due devono salvare una persona in pericolo. Pure. Sì. Perché? Perché il libro inizia con loro in coda alle poste. E quindi, cioè, non se ne esce. Non se ne esce. I suoni in coda alle poste perché ricevono, Pino riceve una busta. Con dentro, allora, ricordate, tu non c'eri, ma lei magari lo sa, c'è dentro una musicassetta. E dice, ma bello, che musica è? No, non si capisce niente. Marziana. Suoni come essere in un fax. C'era il fax. Tipo Galactica dei... Come si chiamavano? Tant'è che loro dicono anche, ma neanche Brian Eno, che comunque faceva musica stramba, riesce a combinare una cosa. Cosa sarà? E alla fine si scopre che cos'è. Si può dire? No. No. Perché è troppo bello. È segreto. Ah, pensavo fosse una parolaccia. No, no. È troppo bello. Quando io, io non avevo capito niente, ma quando l'ho letto, ho fatto un bel salterello sul mio lettino abbronzante. No, vabbè. No, ho detto, questa la, adesso la Varalli in puntata me lo dice, come l'è venuta in mente. Mi è venuta in mente perché io ho avuto un Commodore, un computer MSX. Ok, quindi è successo a lei. Sì, perfetto. La musica marziana è successo a lei. È successo a me. Allora, io direi, Varalli, che sul libro adesso andiamo un po' a volo d'angelo, un pochino pattiniamo, perché quello che ha una gran pettegola come me, sai che io ti voglio tanto bene, interessa, è un aspetto più generale della vita di uno scrittore. cioè una scrittrice come te, che con le squinze è arrivata al libro numero tre e che quindi può essere identificata un po' in quei personaggi. Fratelli Frilli, voi lo sapete, sono un editore molto forte, quest'estate tra l'altro inallegato alla Gazzetta dello Sport, ancora più noto quindi adesso. la sensazione per noi che siamo soltanto dei lettori e dei commentatori di una sorta di identificazione autore-personaggi, al terzo libro, forse quarto, prima o poi, viene facile. Allora, ti domando, ci vuole esattamente coraggio, spregiudicatezza, fantasia, fortuna, una serie di circostanze casuali per duplicarsi, smezzarsi e andare a inventare altri due personaggi altrettanto caratteristici, diversissimi dalle squinze, ma molto caratterizzati tutti e due. Un altro scenario, un altro ambiente e un altro editore. Qual è la ricetta? Cos'è che hai detto prima? Ci vuole una botta di... Sì, è stata abbastanza noiosa come domanda. Non si può dire. Non è andata a parare da nessuna parte, poteva... Guarda, te lo dico. Allora, l'editore, la casa editrice Todaro, a un certo punto, ha deciso di fare, su spinta di altri autori, eccetera, non mia, di fare due antologie. Quattro volte Natale, questo nel 21-22, quattro volte Natale e Odio l'estate. Eccoli qua. Perfetto, due estremi. Sono, esatto, sono stati fatti a Natale e poi nel periodo estivo. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Odio l'estate, la crima. Vabbè, gli autori erano quattro, allora, veramente erano sei, perché il trio della Madonnina scrive, scrivono in tre, però, sono quattro racconti. Allora, in un'antologia di una lunghezza normale, quattro racconti sono racconti veramente lunghi, perché voi pensate all'antologia come facevamo con Frilly, eccetera, ci hanno detto 40 o più racconti, no? È più grossa, ma... L'avete vista la puntata? Datevela a vedere. Quei sorrisi noir, molto carini. Sono anche molto brevi, no? Invece lì, quattro. Io mi sono... L'idea carina era anni 60, anni 70, anni 80 e anni 90. Io mi sono occupata degli anni 80 e lì avevo le squinze e non avrei mai potuto usarle, a parte che il fatto che è un altro editore e comunque le squinze sono per Frilly, ma comunque negli anni 80 le squinze forse sono nate, cioè, non esistevano, quindi avrei dovuto comunque... E io mi sono inventata questa storia degli anni 80 già con Pino e Marietto e sono due racconti lunghi, anche a me erano piaciuti molto, mi ero molto divertita e anche alla Todaro sono piaciuti. Quindi lei che cosa ha detto? Senti, Varalli, a me questi personaggi Pino e Marietto piacciono molto. Se tu ne vuoi scrivere uno da sola, io l'ho scritto. Allora, se un editore ti chiede di scrivere un giallo da sola e non sei De Giovanni o Manzini, lo fai, giusto? E ringrazio anche. E ringrazio anche. E se poi vai anche a premio, se poi viene bene, come si dice. E quindi, questa è un po' la genesi. Però la vera domanda è, mo' che fai? Con l'occhio sinistro guardi le bozze delle squinze con l'occhio destro e anche le manine. Più o meno sì, faccio squinze e quattro e farò anche sicuramente Pino e Marietto due. A Natale al cinema. No, Marietto vecchi. No, Marietto vecchi. Le squinze, ragazzine. Guarda che lei fa così, perché sai chi ci ha messo dentro qua? Ci ha messo Bastasi e lei pensava che io non me ne fossi accorta. Te lo ricordi Alessandro Bastasi? Sì, ma infatti Bastasi è quello che aveva messo le squinze nel suo. Esatto. No, una simpatica ripicca, non una ripicca. Ero solo che contenta io. No, ma infatti io adesso volevo chiedere come fa a concepire questi personaggi. Qual è? Non lo so, sono una donna fantasiosa. Sarà quello? E poi mi ispiro un pochino alla realtà, mi ispiro. Nel Barviglia ai tempi, perché io c'erano negli anni 80 ero giovane ma c'erano con la permanente il Montclair e c'erano, non c'era un idraulico e un gomista, c'erano due idraulici io me li ricordo che erano fratelli sempre con la tuta blu il Tony la tuta blu è il Tony sempre col Tony e io me li ricordo perché erano sempre al bar quando io andavo magari arrivavo andavo in studio e loro erano al bar uscivo prendevo il caffè e loro erano al bar infatti l'idraulico ogni volta che lo chiami è sempre impegnato può mai arrivare esatto perché è sempre al bar ci sta e questo ci sta e quindi così era e un pochettino mi sono ispirata esatto anche se cambiandoli perché poi neanche erano mie amici non è che li conoscessi però mi sono un po' ispirata a questi due idraulici parlavano milanese ragazzi negli anni 80 un idraulico e un gommista non puoi mica farli parlare a Forbiti a Milano un po' di milanese glielo devi mettere dentro per forza e io ho uno bravissimo maestro di milanese che me lo corregge perché come io ho cominciato a scrivere anche qui in questi qui c'è abbastanza milanese perché deve essere verosimile un idraulico e un gommista negli anni 80 un po' di milanese lo devi non tirare fuori a Milano e io lo sapevo parlare abbastanza perché in famiglia mia anche se noi siamo un po' varesotti però è sempre lombardo diciamo che hanno qualcosa è che non lo sapevo scrivere perché in milanese è difficile da scrivere un po' che c'è il dialetti cioè non è così facile scrivere no assolutamente è difficile però lei è carina perché guarda prima pagina mette le regole le regole fonetiche come si scrive come si legge la O la doppia O sì perché dovete sapere che Shura la Shura e la Tusa si scrive Shura e Tosa con la O e questo è qua eh sì e io l'ho scoperto perché ho questo maestro Bico Contursi lo posso nominare che è un signore bravissimo che fa i corsi di milanese nella mia zona e allora io gli scasso l'anima tutti i libri e gli mando la parte milanese da correggere lui è delizioso mi si scrive Shura è gentilissimo e me li correggia si pronuncia Shura eh sì si pronuncia Shura anche questo si scrive con due L tira ma si pronuncia con una mola e meseda anche se le L e le S sono due esatto se penso che io la prima volta che ho sentito questa espressione proveniva dalla bocca di un comasco eh ma lo dicono a Lombardo e non è proprio solo milanese sì sì però magari non è cioè più utilizzato nella nel milanese lui è comasco ciao Fabrizio e la usa spesso ma è comaschissimo vabbè detto questo detto questo ieri ero a Brescia a presentare e mi hanno detto che loro hanno lo stesso detto ma invece di Messeda c'è un'altra parola purtroppo non me la ricordo una cosa tipo tiramola e tramescia ma magari mi sbaglio una variante infatti hanno detto eh Bresciana allora risolto giallo sta per indire lo fa in questo istante il grande concorso tiramola e scriveteci telefonateci diteci come si dice dalle vostre parti perché poi la Varalli ne farà un'antologia assolutamente sì 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 anche in Veneto anno ne hanno uno diverso ancora ma ogni tanto me lo scrivono settimana prossima io vado dai sorgato in Veneto e chiedo vai a chiedere dai è interessante e chiedi una bicicletta vediamo cosa se chiedo una bicicletta arrivano con quella di quando ero bambina con le retelline no da noi spritz 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 anzi da noi adesso quello col campare è superato quello col apero figuriamoci noi siamo alla terza puntata e com'è? con il rabarbaro ma davvero ed è buono? è buonissimo dai provarò in centro a Vicenza nel bar più famoso dove pare che lo spritz sia nato si beve ci arriva la lista con tutti i rabarbari cioè con lo vabbè non facciamo pubblicità comunque provatelo con anche dei pinoli perché pinoli e rabarbaro è eccezionale ragazzi il tempo è tiranno la Varalli ormai è di casa esatto tanto tra sei mesi le chiccole le squinse conoscendola un nuovo premio vinto speriamo io sono contenta se vinco il premio ma noi siamo noi la adoriamo la adoriamo siamo contenti di averla qua tutto il globo terraco la adora e quindi in bocca al lupo con Pino Marietto e la tua vita e dalla vostra Alessia Sorgato e da Nicolò e da Paola ciao grazie buona serata quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo grazie a tutti Grazie per la visione!